Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Guidare con prudenza per il vento forte in A1 tra Rioveggio e Barberino di Mugello, in A12 tra Pisacentro e Rosignano e in FIPILI tra Gello e Livorno. A Firenze fino a domani per lavori in via Guelfa il tratto da via Nazionale a via Montanelli resterà chiuso. Per i treni dalle 6 la circolazione sulla Bologna Prato è rallentata per un guasto e un treno tra Monzuno e Grizzana, ritardi fino a 20 minuti. Per i traghetti la corsa Toreumar da Piombino a Portoferraio via Cavo delle 8.40 è stata cancellata per maltempo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!